porta la tua consapevolezza sul piede destro e ripeti la stessa esplorazione percependo il piede destro in ogni sua parte e in ogni sua forma e sentendo le sensazioni che ti comunica porta ora la tua consapevolezza sulla caviglia sinistra e ripeti la stessa esplorazione risali lungo la gamba sinistra soffermati sulla tibia e ripeti la stessa esplorazione risali ancora lungo la gamba sinistra soffermati sul polpaccio sul ginocchio sulla parte posteriore del ginocchio risali ancora lungo la gamba sinistra soffermati sulla parte anteriore delle cosce il quadricipite soffermati sulla parte posteriore delle cosce il quadricipite femorale soffermati sulla parte sinistra dell'anca concentrati sulle sensazioni che ti comunica ogni parte del corpo su cui ti soffermi e che esplori estendi la tua consapevolezza a tutta la gamba sinistra percepiscila esplorala in ogni sua minima sensazione compi ora lo stesso percorso con la gamba destra iniziando dalla caviglia destra risali lungo la gamba destra soffermati sulla tibia sul polpaccio sul ginocchio sul ginocchio sulla parte posteriore del ginocchio sul quadricipite sul quadricipite sul bicipite femorale sul quadricipite il quale il quale il quale il quale il quale il quale suuh Grazie.